Un po' il motto dell'Unione Europea, quindi secondo me si presta molto bene a questo progetto e anche proprio al nostro territorio. Infatti sembrano un po' gli ingredienti di una ricetta apparentemente perfetta, perché abbiamo tantissime risorse a livello geografico, naturalistico, culinario, culturale, artistico, insomma architettonico, tantissime. Appunto gli ingredienti perfetti di una ricetta che è appunto la promozione della valle. Prima però accennavi al cammino di Santiago, Santiago di Compostela. Ecco, forse potremmo fare davvero un bel parallelismo tra il cammino di Dante in Casentino e questo cammino che ultimamente sta portando tantissimi visitatori dall'Europa, dal mondo, in quella terra proprio per riscoprire appunto un cammino poi spirituale, ma si può vivere in vario modo. E forse altrettanto, no? In Casentino il cammino di Dante può essere vissuto da vari tipi di viandanti. Ecco, quindi tanti dei tipi di declinazioni. Ecco, va incontro a vari tipi di turista, dicevo. Sì, grazie per questa domanda che proprio calza a pennello. Prima di rispondere direttamente alla domanda porto un esempio vissuto personalmente perché con la mia ragazza, la mia compagna spagnola, noi andiamo spesso proprio nel nord della Spagna a fare le nostre vacanze d'estate e abbiamo potuto comprovare come uno dei cammini Santiago, perché non c'è solo quello francese che va da Jean-Pierre du Porte fino a Santiago, ma c'è quello del mare, c'è quello che parte da Madrid, da Siviglia, eccetera. E abbiamo potuto comprovare guardando, noi siamo in vacanza in un paese che si chiama Laredo, sulla spiaggia tantissimi pellegrini ogni giorno che camminano e fanno proprio la rotta del mare. Considera che l'anno scorso Santiago, ufficiali, concredenziali, hanno avuto come numero 216.000. 2015 sto parlando. Nel 2016 è stato battuto il record di 300.000 pellegrini. Quindi credo che c'è proprio un ritorno alla terra, all'esperienza diretta, multidisciplinare e chiaramente quando c'è un cammino come quello di Santiago, che possiamo dire spirituale, ma tra le domande che sono state fatte ai pellegrini la spiritualità era al quinto posto, cioè l'esperienza diretta, conoscere le persone, provare nuovi, mettersi alla prova fisicamente anche, provare nuovi prodotti da mangiare, un'altra lingua. Quindi io credo che Santiago può essere un esempio ottimo da seguire. Chiaramente io credo che abbiamo due valori aggiunti che ora ti commenterò qui in Casentina. Il primo, che non si tratta di un cammino necessariamente spirituale, anche se Dante ha scritto la Divina Commedia e quindi c'è tutto il discorso spirituale, ma possiamo già chiamarlo un cammino culturale. E a noi come casentinesi una cosa del genere, perché questo qui è verso l'esterno, un cammino culturale sulle orme di Dante, che sarebbe il primo cammino del poeta, gli altri sono tutti di santi o di apostoli, quindi già questo ti differenzia, ma per noi all'interno ci serve come la creazione di un'identità basata sul padre della lingua italiana che qui ha scritto gran parte della sua opera più importante che è la Divina Commedia, cioè tutto l'inferno e tutto il purgatorio. Pertanto, come commentavo prima durante la lezione, creano un'identità casentinesi dove all'esterno noi ci presentiamo come casentinesi, poi quando le persone si decidono di venire, chiaramente gli spieghiamo questa nostra diversità in valle.